Direttore generale, mamma mia, ex giocatore, ex capitano, sardo ad adozione, Jack De Vecchi. Sardinia Day, importante occasione per ribadire la valenza di questa squadra e questo progetto. Sì, assolutamente, è un'occasione importantissima per noi, ci stiniamo molto, ci abbiamo lavorato molto sopra. Sì, è un'occasione per far bene, è una partita importante di cartello contro una corazzata come la Virtus Bologna, però noi ci aspettiamo tutto esaurito, vogliamo fare il meglio per poter dare anche un segnale al campionato, dare una svolta di cui abbiamo bisogno. Quindi è un'occasione unica da non perdere, ci saranno eventi collaterali che abbiamo creato per l'occasione, siamo molto carichi e abbiamo molto entusiasmo. Se ti dico identità, cosa mi rispondi? Identità, insomma, è una parola che racchiude tanto, è una parola singola ma racchiude tanti valori, ha sempre contraddistinto il carattere e l'anima di questa squadra, deve essere così anche quest'anno, ci stiamo lavorando molto, i giocatori sono molto impegnati, hanno capito anche dove sono atterrati ormai, visto che è passato qualche mese, si riconoscono in questo, questo è importante, l'identità sarda è fondamentale perché è il nostro DNA, ecco, ti rispondo che è il nostro DNA. Ultimissima cosa, tu probabilmente sei uno di quelli che la Sardegna realmente l'ha girata da nord a sud, isole comprese, proprio per la fidelizzazione che ha questa società con tutta l'isola, non è solo artigianato, non è solo cultura, è isola che però ha veramente mille volti. Sì, è un'isola che va vissuta a 360 gradi, noi lo diciamo sempre, oltre al mare c'è tanto altro, noi con lo sport cerchiamo di far valere, insomma, come cassa di risonanza, e dare una visuale un po' più ampia, c'è tanta tradizione, tanto artigianato, io che sono un ottimo degustatore di qualità di cibo, ricordo sempre che anche la cucina sarda ha forte tradizioni, ha delle specialità che non ha nulla da invidiare sul panorama nazionale, quindi è una Sardegna a 360 gradi.